SEI UN TIPO INTERESSANTE Scott Lang Sei un Avenger Hai una figlia Ma hai sprecato tanto tempo, come me Ma a questo possiamo rimediare Papà! Chi sei tu? Sono l'uomo che può darti quella cosa che desideri E sarebbe? Tempo Lui può cambiare l'esistenza E alterare il tempo Non puoi fidarti di lui Non mi interessa chi è Ho già perso tanto Babino! Lui può darci una seconda occasione Lascia che ti chiarisca le idee Tu mi darai ciò che voglio O tutto quello che tu chiami vita Terminerà È tutta colpa mia È meglio che lei non veda Avevamo un accordo Credevi di vincere? Io non devo vincere Ma entrambi abbiamo solo da perdere Mi dispiace che sì Mi dispiace che sì È un po' di più Ma per l'armi È un po' di più È un po' di più Oppure